Ciao a tutti ragazzi, bentornati nella terza puntata del collegio Sono ancora senza Mirko perché Mirko poverino è a casa, addolorante, che prende farmaci e non sta bene poveraccio Quindi mandategli tanti messaggini di amore che lui li riceverà e a cui faranno tanto piacere Iniziamo subito Sta per iniziare una nuova settimana Ecco che inizia la terza settimana Ragazzi non sanno che in camerata li attende una sorpresa Ok una sorpresa in camera cosa sarà mai Non è che ha portato poi tantissimi Una ragazza e hanno questa reazione Cioè manco avessero trovato un milione di euro Chi cazzo è questa? Chi è che ha detto chi cazzo è questa? Schiavella sarà la vostra nuova compagna Metti qualche verbo e si capisce anche Ma perché è così saltata? Non ho capito Non ho capito perché l'altra è così Mi ha tolto il telefono, i trucchi, il deodorante Fanno così a tutti tranquilla non è solo te Ma penso tu lo sappia altrimenti non avresti fatto il provino per il collegio Sono Alessio, ho 15 anni, tutti devono fare quello che dico io perché io dico sempre tutto giusto Non è un buon inizio Iniziamo bene, iniziamo bene Ma abbiamo tagliato i capelli? Sì Però io non ho capito ancora perché urla sempre per ogni cosa Pure ventidina qualunque cosa urla Oh Gesù santo Ma veramente? Questa urla per tutto quindi Adesso mi aspetta che voglio vedere la compilation degli urli Alessio, Alessio Raga ma veramente urla sempre In collegio c'è già qualcun altro che è famoso per le sue urla La sorvegliante Buongiorno collegiali, aprite gli occhi Ma chi non vorrebbe essere svegliato così? Scusi questo è suo? Deve stare lì per terra Ma fallo sei scusami Ma fallo te cosa? Dai iniziamo bene va Grazie avevo il dubbio che non funzionasse, non so perché Guardate l'altro che dorme appeso al muro Lasciatemi dare il benvenuto alla signorina Schiavella Oh benvenuta, si è entrata già urlando L'hanno accolta bene i suoi compagni? Sì sì, è gentile Questa comunque ragazzi è la classica ragazza che fa di tutto per escluderti Per mandarti frecciatine, si vede già Questa terza settimana si concluderà con un esame di sbarramento Oh bene, bene così sappiamo subito chi verrà mandato via, bene Io sarò qua, ho paura di non superarla e di non farci Oh guglianmino se studi vedrai che tutto andrà per il meglio Il 21 aprile a Toronto Signor Marrone, dov'è Toronto? Abruzzo In Abruzzo Eri saputo che l'hanno preso dal Canada Ho invitato qui un noto divulgatore scientifico Oh forse ho capito chi è, a Mirko sarebbe piaciuto Che terrà una lezione speciale per il collegio Eh mi sa che si tratta di barba scura se non sbaglio E' già in classe pronto ad accogliere i ragazzi Ah è già qui, pensavo fosse l'effetto sorpresa invece è già qui Buongiorno, ciao Barbaschura Oh che carino il boscaiolo lo conosce già Sietevi veloci che qua altrimenti non possiamo iniziare Guarda, si è emozionato raga, che carino è lui Questo barba scura lo conosco già visto che fa documentari Scusatemi ma come fa a sapere che fa questi documentari scientifici molto famosi Se lui non usa il telefono A me gli occhi Io raga, onesto non sapevo cosa facesse barba scura Perché è Mirko che lo segue Però tanta roba Che cosa è questo? Bicarbonato di O-Clucca e bicarbonato Clucca Ma come cazzo parli Johnny? Hanno messo la grafica di Breaking Bad, sto male Bicarbonato di O-O-Clucca, bicarbonato di Clucco Che cos'è l'acqua ossigenata? Quando ti fai male ti metti sul dito Beh non fa una piega perché in effetti è proprio quello che serve però Giungendo adesso sapone per piatti Ok quindi ha preso acqua ossigenata, sapone per piatti Ci mettiamo anche un po' di colorante, questo non serve a niente E ha aggiunto anche del colorante Perché lo mettiamo? Perché è bello E perché lo mettiamo? Mi piace la lezione del professore Barbarossa Eh barba scura, barba rossa Barba rossa Ci butto il lievito dentro il perossido di droga Oh, oh, oddio, oddio Scusa Enzo, mi è partita la mano Un applauso Enzo A parte le ragazze che alcune veramente guardano I ragazzi sembrano più interessati a questa lezione Perché in effetti è una lezione interessante Abbiamo pensato di fare un'altra gara didattica Ah, una gara didattica con barba scura, bene Signor Parolin che ha già quattro crediti Bravissimo, bravissimo Il signor Cui è il signor Grosso Eh, diciamo che sono proprio in alto mare Beh adesso ci divertiamo Allora questa è una banana Ok, una banana Quello che vorrei fare oggi è estrarre il DNA da una banana Oh, che figo Qui abbiamo fatto una bella pappetta di banana Un po' di sale e lo mettiamo nel bicchiere Pappetta una banana e poi crea una soluzione Signor Grosso, che cosa hai fatto in salita della cucina? L'olio Io odio l'olio Questa cosa bianca che fluttua è il DNA della banana Oh mio Dio Mettendo l'alcol e il sapone per i piatti fluttua il DNA Ma io non lo vedo Quindi questo è il risultato E ora toccato Quindi devono riprodurre Quell'esperimento che ha fatto Barbascura E far uscire il DNA della banana In sostanza è questo che devono fare Pronti? Via! Devi fare una pappina, devi fare una pappina Sì ma io non lo farei a squadre Questo è un lavoro da fare individualmente secondo me Oddio questo è un gigantesco ammasso di DNA Stati bravissimi Docenti e preside sono pronti per il verdetto Ok scopriamo chi è il vincito I vincitori Perché va a squadre Il rosso Due credit Più altri due che avevo già Sono contenta se vince o lui o l'altro Secondo classificato Gruppo blu Loro veramente C'è un sacco di mondo da scoprire Magari adesso non lo conoscete Lasciatevi ispirare Bellissima questa lezione è stata stupenda In cortile qualcuno attende le due nuove entrate Ecco i parrucchieri pronti a tagliare Siamo pronti a sentire urlare? Signorina schiavella come vorrebbe i capelli? Ma che domanda è se tanto poi li fanno come vogliono loro Signorina da massa secondo lei che tipo? Sì ma è fatta apposta palese dai palese Cioè vada la ragazza che non la sopporta a chiedere come vuole i capelli Anche l'anno scorso è stato fatto uguale Secondo me è una bella frangetta Frangetta! Frangetta! Mamma mia raga Secondo me è una bella frangia Sentiamo la professionista Secondo me lei Perfetta Cioè vabbè vedete Vabbè vedete Cioè mi fa pena da una parte però dall'altro mi fa un po' ridere sincera Li vedo un po' storti Ha fatto proprio così ragazzi Ma veramente è piena di capelli lei eh Libera come l'aria Vabbè non ha fatto la frangetta però dai La nuova Alessia può finalmente ammirarsi allo specchio Raga urlo palese ora urla Avete sentito come urla questa? Urla troppo comunque dai Prevedibile Guardate i ragazzi che la prendo per il culo Abbiamo comprato una gallina non una nuova collegiale qua Porca miseria Ovunque lei è perfidina eh Si torna in classe Poverino a caldo E prof mi sta facendo malata Ho capito però potresti parlare in italiano Guglielmo eh tesoro Noi ti vogliamo bene però parla in italiano dai Secondo me il posto più fresco qua è l'ufficio del preside Ho detto semplicemente una cosa Ho detto mi fai male la testa Va con me mi hai mandato presa Calma eh Guglielmo stai calmo Perché sai come va a finire in queste situazioni Calmo Però questo modo di fare non va bene Non va bene Purtroppo il signore grosso si è comportato male Eh un pochettino si è la verità Le do una piccola punizione La professoressa scriverà una breve Una piccola punizione La professoressa scriverà una breve poesia Seda Frase in spagnolo E lei la ricopierà 50 volte Oh wow Che bella punizione da paura Tre gruppi che dovranno dare spazio a tutta la loro immaginazione Al bastone Aspetta se volete la metto Ma cosa stanno facendo al povero preside È orrendo il preside con la parrucca Ma non è vero invece è carino Perfetto Sta bene Sta bene veramente Vogliamo fotografare il professor Maggi Che prende per mano uno studente Bellissimo Vediamo la foto Bellissima Bellissima Abbiamo messo la corona in testa alle sorelle Piripicchio Piripicchio Le sorelle Piripicchio Gli esami di sbarramento Incombono Uh Ecco qua il programma per gli esami di sbarramento Vediamo cosa c'è Pirandello la biografia Ma quanta roba hanno messo Ma sta matto il pelato Raga ma dai non è tanta roba però Obiettivamente non è tanta roba Che non andiamo dal preside e chiediamo che ce le dimentichiamo No perché come te la venda Io non andrei a chiedere Per favore riducetemi gli argomenti Sono già pochi Hanno ragione quelli che dicono è poco Andiamoci uguali Io ci voglio andare Quindi niente vogliono andare assolutamente a tutti i costi Bussate oh Bussate danno le manate La porta si apre da sola Troviamo la sedia vuota E dov'è il preside? Si cosa le serve grazie Doh Mo arriva Mo arriva Giorno Che cosa ci facciamo dentro le regni Anche lui non è male a imitarlo eh Come vi siete permessi di entrare in un ufficio Oddio non è che hanno fatto chissà che cosa di male Hanno bussato Sono entrati Dopo questa bravata Vediamo se ce la levano Sta roba da studiare Ma non credo Se posso dire la mia Io non ci trovo niente di male In quello che è successo eh Oh stai fermo ta Ma di qua comporta bene Mi faccio buttare fuori Si è accorto che ha troppa poca visibilità E quindi deve avere più follower Ma perché? Ma perché? Cose per forza non l'ho mai fatte e non le farò Allora io questa cosa del collegio non l'ho mai capita Ci sono certi momenti in cui queste persone impazziscono E iniziano a fare cose senza senso Una sorpresa attende i collegiali Cinema sotto alle stelle Che bello Una strata cinema Mi sta venendo voli di andarci Stanley Kubrick Era tipo il cubo Ma quello è il cubo di Rubik Il cubo di Kubrick Il cubo di Kubrick Il film è un film di fantascienza Bello però non l'ho mai visto Mi piacerebbe vederlo forse sapete? Piano piano la sala si svuota Ma si può fare questa cosa? Cioè nel senso se c'è un'attività in comune È una domanda seria non lo so Ci si può alzare e andarsene? Rimangono a guardare il film Solo i veri cinefili Carino ma lui sta dormendo sulla sedia patatone Ognuno si porta a casa qualcosa Chi la maschera della scimmia vero Guglielmo? E finalmente i ragazzi possono andare a dormire Eh devo dire che è stato bello E lo rifarei Ma lei è una tenerona È proprio una tenerona lei eh Ho bisogno del signora Parolin Eccoli a rapporto A rapporto per aver infranto La regola di non entrare nell'ufficio del preside Ecco qui Iannoni Schiavella Pagani Santeramo Senza senso questa cosa secondo me Solo perché sono entrati dai Buongiorno Buongiorno Un bel niente Ah pensavo buongiorno un cazzo Invece no Peccato mi sarebbe piaciuto sentirlo Mi hanno raccontato Della vostra Incursione Ma come incursione? C'è Incursione addirittura Qualcuno Si è seduto qua Mi ha fatto il verso Mi faccia vedere come mi ha imitato Signor greco No dai dai ti prego Che credi Buongiorno Non ci credo Questa sarebbe l'imitazione Ci provo Ci provo Io lei non me l'aspettavo in questo gruppo Manco io onesta Manco io tra tutti Questa piccola marachella Farete l'esame di sbarramento Perché l'esame Non sarebbe stato previsto Per quelli sufficienti L'esame praticamente era solo Per chi era insufficiente Loro non lo sapevano E l'hanno scoperto adesso Neanche ci provo perché Boh lui neanche ci prova Quindi a posto Cominciamo col piede giusto Gentilmente Per gentil cortesia Signor greco Starà continuando Il suo solitario Vero? Si Ok Ryan non vuole neanche arrivare All'esame di sbarramento Ryan non vuole farsi cacciare prima Anche se è di notte Suona la sirena La petolicchio Paura non ne ha Sento i brividi lungo Tutta la schiena Lei Vuole Ritornare dal preside Io non ho mai capito Perché con la petolicchio Succedono sempre questi casini Non l'ho mai capito Mai Non vuole fare questi esami Però passare da maleducato Anche se non lo è Sinceramente non è bello E infatti ha ragione lei Ok Cioè lui non è maleducato Non capisco perché adesso Stia facendo così Oggi è un obiettivo Voglio fare buttare fuori Per il casino che faccio Bello obiettivo Bello obiettivo veramente Un obiettivo fantastico Ho detto di girare la sedia E di alzarsi ora Doh Ma perché Basta Va bene così Abbiamo già visto troppo Adesso ci vediamo Quando verrà espulso Non esca dall'aula Cosa applaudono Cosa applaudono Ma che problemi hanno Anche gli altri Ah che peccato Questo è mancanza di rispetto Ora regà Oggi La pizza la potete prendere Ah bene Oggi è gratis Gliaro un panino A chi dice Forza Roma Hai capito Il panino in più È gratis Per chi dice Forza Roma Forza Juve Eh stronzetto lui Niente panino Vai dal preside Vai dal preside Perché hai detto Forza Juve Non hai detto Forza Roma Incredibile Dal preside In realtà C'è già qualcun altro Eh Ryan Chi vuoi che ci sia In aula informatica Comincio a giocare Un atteggiamento Proprio di sfida Sì Si è comportato Malissimo Com'è? Greco? Sì? Addio Quindi ci fai a giocare Ma qui ne è già espulso Buongiorno Aia 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 Avevo detto Che ero un po' stufo Di pellegrinaggi Incommentabile Ve lo giuro Devo staccare Perché altrimenti Mi bloccano il video Ma è incommentabile Questa parte Allora mi racconti Un po' Che cosa ha combinato Lei Ma lo sai già Che cosa ha combinato Che cosa glielo chiedi Ma niente Scherzavo nella Lezione di storia Scherzavo nella Lezione di storia Giocavo a solitario Al computer Sì poi cantava la canzone Il pompiere Paura non ne ha Lei fa queste cretinerie Perché vuole Che io la butti fuori Dal collegio Non ci credo Se gli dice Invece io la tengo dentro Pazzesco Lei vuole essere Buttato fuori dal collegio Perché Perché ha paura Degli esami E io Non la butto fuori Dal collegio Sto male Andrà in isolamento E ci resterà Fin quando voglio io In isolamento L'avranno fatto a Teoli Mi sembra Che aveva scritto le poesie All'epoca Mentre Ryan medita Sul da farsi Vabbè Poteva volendo dire Io non mi sento più bene Invece di fare Tutta sta pagliacciata Poteva dire Io non mi sento più bene Me ne voglio andare Prego Prego Accomodatevi Oh Siamo a teatro Piange ancora Carmelina Addirittura Faccia partire la proiezione Grazie Ah ok ho capito Cosa fanno vedere L'edizione straordinaria Delle Torre Gemelle Terribile Attentato Avvenuto a New York Io mi ricordo che Ero a casa dei miei Quando è successo Cioè ovviamente Ero a casa dei miei Però a casa dei miei In campagna Non era ancora iniziata la scuola E io ero sul divano Con mia sorella Stavamo guardando i cartoni Non stavamo guardando I cartoni Del digitale terrestre Perché io ho scoperto Che i cartoni Del digitale terrestre Sono stati interrotti In quel momento Noi stavamo guardando Una videocassetta Tipo Hercules E mio papà è arrivato E ha detto Metti il TG1 TG2 Non mi ricordo Mi ha interrotto La videocassetta Che stavo guardando Perché Per mettere sta roba All'epoca Io vivevo A New York Oh mamma mia È stato Uno spettacolo Terrificante Di vedere Quel buco Con il fumo E già lui Lui è un insidente D'inglese Ecco perché La pronuncia Mi sembra troppo americana Non mi sembra Per niente inglese Mi era stato Offerto Un lavoro Sopra quel buco Si è salvato La pelle Non accettando Quel lavoro Immagino quindi Se avessi accettato Quel lavoro Forse non sarei qui Cosa vi ho appena detto Anche per Ryan Con la testa letteralmente Nei libri E immerso Nella sua solitudine Si stava dormendo Non è che stavo Poi nei libri A studiare Se mi bagno un pochettino Non lo posso pesare Perché Per me Non è niente impossibile E niente impossibile Allora scusa Perché non ci hai pensato Prima a non fare Il maleducato E studiavi già da prima Io non capisco Di Ryan non abbiamo Filosizia Se è vivo Se è morto Però Ryan Sta studiando Vedi Odio ce l'ha andato Eh Ma no Andiamo a cercare Ryan Metteremo sotto sopra Il collegio Ok Un'altra bravata Benissimo Andiamo Andiamo a cercare Bravi Andate a fare Un'altra bravata Bravi Bravi Ryan Ragazzi L'hanno trovato Eh vabbè Non era difficile Raga Il collegio quello Sta No no Tranqui ragazzi Vabbè Ma la puoi aprire La finestra C'è il gancio Ah no Non l'hanno trovato Qua qua Oh giratevi Oh Non si gira Non ci gira No ma palese Che lo trovano Dai Non posso aprire Ragazzi Non posso aprire Perché non può aprire Carini però Voglio bene Oh ci vediamo domani Che belle Ste scene però Pirandello Ah ora studia Ora è tranquilla E studia lei Qualcuno deve risolvere Dei conti in sospeso Col preside Giornale Perché cosa ci fa Guglielmo qui Avevamo una punizione In sospeso Ah vabbè Schive le 50 frasi Capirai Dai Abbiamo notato Che lei si sta impegnando Vedrà che piano piano Migliora Che carino Ho capito E in arrivo al collegio Un ospite Che di spettacoli Se ne intende Oh Leo Gasman Proprio oggi C'è l'esame Di sbarramento Ok Quindi arriva proprio Nel giorno giusto In cui già questi Sono agitati Assegnate le parti Manca solo L'ultima sorpresa Oh Eccolo qua Guarda lì Non è mai capitato Che prima di salire sul palco Ti dimentichi una delle tue canzoni Sempre Ma come E che succede in questi casi Cioè come fai a ricordartele Io sono un pessimo con la memoria Raga la voce di Leo Gasman Mi ricorda quella di Will Wush Abbiamo Bucciato una canzone Capivo che per te Non ero abbastanza E quando piangi Ah però sono bravi Sono bravi veramente Cavolo Grandi raga Bravissimo ragazzo Cavolo Cavolo Bravissimi Ti riso quando ho detto Che io E' un bravissimo ragazzo Soprattutto molto molto umile Io vorrei un'altra canzone almeno Ma dai Ma è sua Ora Mi toccano Gli esami Eh lo sapevamo Che sarebbe arrivato questo momento Lo sapevamo Ormai però Il tempo a disposizione è finito Eh ormai Siamo gli sgoccioli ragazzi Eh eh E se volevamo studiare Studiavamo prima Eccoci qua E' giunto il momento Ma non ce l'ho pronto E chi è che è pronto Per dare gli esami Nessuno mai Per i collegiali insufficienti E' già ora di affrontare l'ostacolo Eccoci Esami in corso Speriamo in bene Ma per iniziare l'esame Mi sembra manchi ancora qualcuno Eh già manca Ryan Eccoci Ieri mi sono preparato bene Quindi Ora plot twist Ryan rimane dentro E Carmelina fa tutto sbagliato Ed esce fuori Sarebbe il colmo Date il vostro meglio Mi raccomando Forza ragazzi Mi raccomando Diamo il massimo Oh io sono un mostro a copiare Cioè nessuno mi parte Ti alzi praticamente A guardare nel foglio dell'altro Signor Di Clemente Cambiato posto La luce nell'occhio Bene 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 Signor Di Clemente Cambiato posto Ah mi trovo meglio Ah bene 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 Ma dai Buonasera Oh Oh raga No Tranquillo Enrico Anche se non sei Guarda Maggi Maggi è un viso tra l'incazzato E quello che vuole ridere Come va marrone? Eh come va Male Direi che va proprio male Ah greco Se ne vuole andare proprio Fai tutto Tutto Ah però bravo Bravissimo La matematica non la fa Tutto tranne la matematica Non ci vuole proprio provare Non se la sente Eh non te la senti Mi sa che però Così non va bene eh Daniele Prof se la matematica non l'ho fatta Quello che l'ho risposto bene Speriamo Guglielmo eh Mi raccomando C'è il preside che ha da dirvi qualcosa Nel discorso di fine settimana Oh il discorso di fine settimana Del preside Bene Finalmente siamo arrivati qui Dovete aspettare ancora un po' Perché i professori Non hanno terminato Di correggere Era questa la notizia Che non hanno terminato Di correggere In collegio ha inizio Un nuovo giorno Ma non sarà un giorno qualunque Ah perché danno gli esiti La giornata può davvero iniziare Oddio avete visto come scenderai Anche figata Secondo me bucciano fuori qualcuno però Secondo me esce Daniele Marrone Un attimo di attenzione Oddio in che senso Interrompe la colazione per dirlo Signor Grosso Signor Grosso Greco Signor Marrone Guglielmo Ryan e Daniele Poi Seguitemi in presidenza Io per certes Ho capito chi eliminarlo comunque Daniele Avanti Eccoli Al patibolo Per essere sincero Non avrei voluto Vedervi qua Manco io avrei voluto Vedervi qua Purtroppo Agli esami di sbarramento Voi tre Avete fatto cagare Stiamo apprezzando I suoi sforzi Quindi lei può andare La sua poesia È risultata Fra le migliori Ehm Signor Greco Io penso Che l'isolamento Le abbia fatto bene Preside però Per favore Può parlare più veloce Vi prego Le è servito A concentrarsi Sullo studio Ehm Bravissimo Ha tante domande Lei sembra di Non aver neanche provato Raga Daniele se ne va Me lo sento Lei stava così A guardare per aria Cosa stavo pensando E pensavo che non sapeva Cosa scrivere Sono sci No Sapevo Lo sapevo Lo sapevo A me dispiace molto Perché con Marrone Ho un bellissimo rapporto E dispiace Però Guardano anche Il rendimento Scolastico Cioè come vai A scuola proprio Non la condotta Mi dispiace Signor Marrone Ma lei deve lasciare Il collegio Oh Che brutto così Comunque mi piace Senti prego Arrivederci No Non mi mancano di più E il rapporto Con tutti i quali Eh è un peccato ragazzi È un peccato veramente Perché cioè Lui non ha fatto niente di male Bastava che studiasse un po' di più Ehi Mai mollare Dai sei giovane Ce la puoi fare Non mollare Poi le sfide della vita Saranno ben peggiori Credimi I collegiali Tornano in cortile Per il discorso Di inizio settimana Il discorso Di inizio settimana Ma Di già Il signor Preside E perché lo annunciano così stavolta So che siete Un po' turbati E beh direi Poveracci Un vostro compagno Ha dovuto lasciare Il collegio Non è stato piacevole Beh però Vedi che mostra Un po' di umanità Il preside È la settimana Della gita Oh la settimana Della gita Finalmente Voi uscirete E dormirete Sotto le stelle Bellissimo Spero in tenda Questa settimana Farete naturalmente Un'altra gara Un'altra gara Come sempre Per competere Per questa borsa Di studio Ma è normale E sarà Una gara Di spelling Oh per carità Quella sì Che è difficile Insieme ad un ospite Che viene proprio Dagli Stati Uniti E chi è? Gio Bastiani C'ha il collegio Ma che sta succedendo Quest'anno Cala la notte E i collegiali Non vedono l'ora Di staccare E beh ci credo La parte più bella Della giornata Quella Ma Dove sono finiti? A un'altra barachella Dai Stasera c'è un appuntamento Imperdibile Oh Che bello Però scusatemi In base a cosa decidono Chi sta per terra Chi sta nel divano Eccetera 51esimo Festival di Sanremo Oh Ah io c'ero già C'ero già A vincere fu Elisa Ah mi ricordo Che avevo vinto Elisa È vero No Questa non la sento Ma Sì Ok Qua succede un casino Ragazzi Qui succede Un gran casino Il sorvegliante Si è alzato E ha lasciato Un telefono lì Ragazzi Cioè, perché? Perché? Raga, non fassi c***o, perché domani dobbiamo andare in gita E domani la gita, ciao! Mi farei una chiamata Vorrei capire chi è che sta chiamando Il calabrese ci salutano, mi ricordo come si chiama Dieci ore dopo Momento di prepararci per andare in gita Evviva! Preparate i bagagli che si parte Se non fosse che È una giornata davvero incantevole Sarebbe stata davvero incantevole C'è il cupio? Oh oh oh, volevi andare in gita, volevi Buongiorno, si accomodi Si accomodi e ci rimanga per tutta la giornata su quella sedia Senta, secondo lei per quale motivo l'ho convocata? Boh, non lo so È successo qualcosa, ha combinato qualche pasticcio Va bene, non guarderò spoiler Bene ragazzi, anche questa puntata finisce qua Spero che nella prossima ci sia anche Mirko Non lo so, lo scopriremo se sarà meglio Fa una settimana domani che ha fatto l'intervento Quindi sta ancora così così Io spero che vi sia piaciuta Se così fosse lasciate un like Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E noi ci vediamo come sempre In un prossimo video In una prossima reaction Ciao ragazzi Lascia un commento Metti mi piace Cosa ti costa dai che sei gammaggio La coppia che scoppia Se il video ti è piaciuto Lascia un commento e iscriviti al canale Io giornate La coppia che scoppia Sono come noi La vita di coppia Vissuta da eroi La coppia che scoppia È un'esplosione Mirko e Alice Dentro il nostro cuore Ciao ragazzi